Weee! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, wow, wow, wow! Ancora un sacco di notizie per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite. Di giorno in giorno vengono rilasciati dei piccolissimi aggiornamenti, delle piccole novità da parte del team di Epic Games che ci fanno capire che la patch 8.3, quella che arriverà settimana prossima, si rivelerà davvero molto interessante ai fini del nostro nuovo gameplay in Battle Royale. Nel video di oggi ragazzi parleremo del braccio destro. No, del braccio destro! Del braccio destro che ha nominato il signor Donald Mustard. Vi ricordate, no, chi è? Il capoccia del team di Epic Games. Approfondiremo questo argomento. Si parlerà e si vedrà soprattutto il primo video ufficiale del gameplay del nuovo Respawn Van. Quindi il camion di cui stiamo parlando e stiamo tenendo aggiornati proprio voi su quello che sarà appunto una nuova funzione disponibile per tutti i giocatori. E il torneo di questo pomeriggio alle ore 18 ragazzi. Nuovo torneo per tutti quelli che si sono qualificati alla divisione numero 6 dell'Arena. Colgo comunque l'occasione per ringraziarvi davvero per utilizzare il mio codice creator. Xiu Derone, grazie di cuore ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live. Ma prima però ragazzi dai, dai che ve lo dico a fare raga, la domandina. Ve la devo fare, la domandina ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto. E la domanda è davvero super super semplice. La skin più bella secondo te di questa stagione? Fino adesso, qual è la più bella in assoluta? Abbiamo visto skin divertenti, abbiamo visto skin serie, abbiamo visto skin ignoranti. Secondo me comunque la più bella indiscutibilmente ragazzi rimane cuore nero. Sia nella versione base, davvero bellissima in questa versione, sia nella versione finale o comunque anche intermedia, diciamo indicativamente da quando comincia a diventare un teschio veramente meraviglioso con un backpack e un deltaplano e un piccone che sono davvero stupendi. Quindi a parer mio la skin più bella è per forza lui, non può a che non esserlo. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciao ciao le bande! E bando alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a parlare delle nuove ruspe che sono arrivate finalmente nel sito di scavo vicino a sponde del saccheggio. E' già un po' che ne stiamo parlando ragazzi da almeno due o tre video che vi faccio vedere che comunque sarà pronto e presto il nuovo scavo. E tra l'altro ragazzi queste ruspe sono probabilmente molto collegate, cioè questi scavi sono molto collegati a quello che è stato spoilerato di prepotenza da Epic Games. Io non so perché lo abbiano fatto ma abbiamo visto che ci sono gli scavi nel bioma del deserto, gli scavi a sprofondo stantio, adesso iniziano gli scavi anche vicino a sponde del saccheggio. Dobbiamo stare molto attenti perché chi scava troppo, come diceva il vecchio Gandalf, non pesca mai nulla di buono ragazzi. Anche perché appunto è apparsa la notizia ufficiale proprio nella nostra sezione per tutti voi nella sezione notizie del gioco Rovina, possessori del pass battaglia. Preparati per Rovina. Il costume per il pass battaglia della settimana 8 è stato presentato. Ma che diavolo avete fatto? Cioè noi leakers siamo qua che ci grattiamo la pal- Ma scusami, ma perché hanno presentato con due settimane di anticipo la skin segreta della season? Questa non l'ho capita ragazzi, completa le sfide settimanali per sbloccare Rovina nella settimana numero 8. Quindi ragazzi vediamo finalmente, ahimè con due settimane di anticipo, cioè va bene. Sappiamo che ufficialmente ragazzi la skin segreta di questa season è proprio la skin che si chiama Rovina. Ve l'avevo anche fatta vedere in grande ieri, ma come vi anticipavo ragazzi, nella pagina Twitter di Donald Mustard viene appunto pubblicato un tweet che dice The Prisoner has a right hand. Il prigioniero ha una mano destra, in teoria è come se fosse un braccio destro, nel senso cominciamo un pochettino a capire la storyline. Sapete che la season va avanti, ma c'è sempre una storyline che si collega alla season precedente. Questo è sempre stato fatto in tutte le stagioni che avete giocato su Fortnite. Il prigioniero era intrappolato nelle segrete del castello di ghiaccio dal re dei ghiacci e dalla regina dei ghiacci. Il prigioniero riesce a liberarsi dalle catene e dalla prigionia, ma è cosciente che non può da solo sconfiggere il re dei ghiacci e la regina dei ghiacci. Quindi chiede l'aiuto di Rovina, ragazzi. Questo mostro che sta nel sottosuolo, ovviamente a tema infuocato, a tema di lava. E tra l'altro, ragazzi, guardate, questa è un'immagine, lasciate perdere la qualità dell'immagine. Questa è l'immagine di Rovina, però con un contrasto aumentato, una luminosità aumentata del 400%. Guardate, ragazzi, dietro di lui. Vedete lo sfondo, ragazzi? Quello è lo sfondo degli scavi. Quindi ci viene finalmente svelato che Rovina uscirà molto probabilmente da uno degli scavi. Ora non sappiamo se verrà addirittura presentato un mini trailer per questa cosa. Io mi auguro davvero di sì, perché comunque è sicuramente un evento o addirittura verrà fatto un evento dedicato, cosa che per il momento non si è ancora vista in questa season numero 8. Quello che comunque è chiaro è che Rovina sarà appunto il braccio destro del prigioniero e che arriverà appunto dagli scavi. Ma andiamo avanti, ragazzi. Le Heli News, ragazzi. Porca di quella porca. Un bel aggiornamento, ragazzi. L'elicottero continua ad andare in giro per la mappa con grande, grande piacere. È partito oramai settimane fa. Nella parte là in alto a destra della mappa se l'è girata tutta. E adesso sta cominciando a fare un percorso interno. Arriva alla sua tredicesima posizione che non è altro che la montagna vicino a Pinnacoli. Sicuramente lo avrete visto anche voi. Abbiamo un'immagine un po' più dettagliata appunto della posizione esatta dell'elicottero. E come al solito il cannocchiale punta sempre come ha fatto. in tutte le varie fasi dell'atterraggio versus profondo sponde del saccheggio, l'ex Loot Lake. Quindi non sappiamo se in realtà sia un caso o semplicemente una cosa voluta. Staremo ovviamente a vedere perché ancora di questo elicottero più che si muove non si sa assolutamente nulla. Ma prima di chiudere ovviamente ragazzi parliamo di queste immagini incredibili ed ufficiali relative al nuovo Respawn Van. Voglio farvi vedere ragazzi un video. Eccolo qua. Questo è un pezzo di video tratto appunto dal trailer ufficiale. Come vedete ragazzi la banana va a inserire la carta, la reboot card dietro al furgone. Che quindi in una quindicina di secondi riesce a responare un... Intanto c'è un tipo con la banana. Come si dice? Ah! Che cacchio sei tu? Riesce a responare ragazzi i nostri compagni di squadra. Sappiamo ragazzi che la reboot card sarà indispensabile per ottenere la possibilità di responare un compagno. E vi faccio notare forse una cosa che non avete visto. Praticamente guardate vicino all'icona del materiale proprio del legno c'è il numero di volte che si possono responare i nostri compagni di squadra. Come vedete un massimo probabilmente di tre volte a partita. Quindi ragazzi come al solito nuove news su tutto quello che sta per succedere. Che arriverà nella patch 8.30. Beh ragazzi per oggi direi che è tutto. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando un bel pollicione in su. Codice creator. Xiodarone. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Non alle 13.00. Ciao! Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Noi ci vediamo in live questo pomeriggio alle 18.00. Grazie a tutti.